E ci siamo qui a la vittoria del tropeo Belmaco in Palio, il tropeo Belmaco qui sulla pista, una delle più veloci disponibili, confermata anche ieri dalle migliori prestazioni mondiali di Marsili e Balani sulle... ...lo solito nel nominamento è scattato il passaggio dei punti. Guarda la campana è al passaggio, primi punti di 2022. Punti di meno 12, 19, 325. Dei Mani e giumento. E vittono due delle favoriche a prendere i punti sul primo traguardo. Punti di meno 10, 9, 299. La rettifica 299, 9 al palo d'orto precedente. Punti di meno 8, 299. Andiamo, eh? Due sette delle bootiane. Dove usate, due sette lunghi. Y, dai! la campana di Monsanto e dal passaggio ci saranno altri punti i pali che sono tuoi il primo interesse in apposta al momento è la prima posizione che sta in attesa di una conferma 19, 20, 77 male a 4 l'uomo dica dei main per la scuola è un personalissimo quando siamo già a meno 5 ma le arriva l'ultimo chilometro al prossimo passaggio altri punti l'uomo d'uomo d'uomo chiumento il pittatore vittatore in questo momento 356, 108 vittorio 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 17 2 2 3 e suona la campana del prossimo passaggio per favore pur che suona la caduta non vento con attenzione qui suona la campana Cotiglia Paola Giumento e Alessandra Moretti a 5 punti la Moretti e la Cotiglia Paola Giumento Cotiglia Paola Giumento 325 9 212 uscitosamente facciamo un applauso